Il centro storico di Sansevero custode non solo di tesori barocchi e tradizioni di un tempo, ma anche di espressività, fantasia e realizzazioni artigianali preziose. E' questo il caso del presepe realizzato da Giuseppe Frau. Nel periodo natalizio, attraversando le viuzze del centro, ci si può infatti imbattere nel presepe artigianale realizzato interamente con materiali di risulta, da questo sanseverese innamorato dell'arte presepiale. Da sette anni Frau si cimenta con la creazione di un presepe artigianale, realizzando totalmente con materiali di scarto alberi, statuette, scenari, paesaggi, case, finestra e intere scene di vita. Un'attrazione per migliaia di sanseveresi che da anni, dopo aver conosciuto il presepe di Frau, tornano a fargli visita. Una passione che Giuseppe coltiva da quando era bambino e che da tempo si è guadagnata un posto di diritto tra i tesori nascosti del centro storico sanseverese. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.